Buonasera, bentrovati alla terza edizione del TG6. Apriamo parlando di cronaca giudiziaria dell'inchiesta che riguarda alcuni appalti della regione Abruzzo e che vede indagato anche il governatore Luciano D'Alfonso. Su questa inchiesta deciderà il riesame sulla richiesta del difensore di Claudio Ruffini. Tutti i particolari nel servizio di Daniela Rosone. Sull'inchiesta degli appalti della regione Abruzzo il riesame decide sull'istanza di Ruffini. Il Tribunale del Riesame dell'Aquila infatti si è riservato una decisione in merito al ricorso presentato dall'avvocato Gennaro Lettieri in rappresentanza del capo della segreteria del governatore D'Alfonso ed ex consigliere del Partito Democratico Claudio Ruffini. Claudio Ruffini, lo ricordiamo, è uno dei 32 indagati nell'ambito della max inchiesta della procura dell'Aquila su una serie di appalti gestiti dalla regione Abruzzo. L'avvocato di Ruffini, secondo quanto si è appreso, ha presentato tra le altre cose anche un'eccezione tecnica legata alla proroga delle indagini che sarebbero state notificate in ritardo. Claudio Ruffini è coinvolto nel filone legato al contributo pubblico per un'iniziativa immobiliare a Giulianova con le positi di reato in concorso con altri di corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio e stigazione alla corruzione. Ad annunciare il ricorso al riesame sono stati gli avvocati Massimo Costantini e Roberto Madama che assistono Eugenio Rosa, titolare dell'impresa Edile, Icet di Castelli e Teramo indagato nel filone sulla ricostruzione post-terremoto della sede centrale aquilana dell'Aggiunta regionale, vale a dire Palazzo Centi. I ricorsi erano stati presentati contro la perquisizione e il sequestro disposti dal PM del capoluogo nei confronti di alcuni indagati. Obiettivo dei legali è conoscere le carte iniziali dell'indagine ed avere la restituzione delle carte sequestrate. Intanto le indagini vanno avanti, anche se al momento non ci sono altri interrogatori che sono stati messi in agenda. Lo ricordiamo che tra 32 indagati, 9 fronti investigativi attualmente aperti, ci sono dirigenti e funzionali regionali, professionisti esterni, imprenditori, oltre al presidente della regione Luciano D'Alfonso e assessori regionali Marilena Sclocco, Silvio Paolucce e Dino Pepe. Le ipotesi di accusi a vario titolo sono di corruzione, turbativa d'asta, falso ideologico, abuso d'ufficio. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Michele Renzo e dal sostituto Antonietta Picardi e sono portate avanti dai carabinieri del NO e dalla squadra mobile della questura di Pescara. Cambiamo pagina. Ieri il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato la delibera sul parco depurativo. Entro fine mese sarà redatto il progetto definitivo. Lo ha dichiarato il presidente della regione Luciano D'Alfonso nel corso della riunione operativa tenutasi ieri pomeriggio. Le attività di depurazione a Pescara e nell'intera area metropolitana sono state al centro della riunione operativa ieri pomeriggio a Palazzo della Regione e alla quale il presidente Luciano D'Alfonso ha invitato, tra gli altri, il presidente della provincia di Pescara di Marco, il sindaco Alessandrini e il vice del Vecchio. D'Alfonso ha fatto il punto sulla progressione progettuale relativa alla realizzazione del parco depurativo di Pescara al servizio dell'efficientamento ulteriore del depuratore. D'Alfonso ha spiegato che proprio il depuratore è interessato da due investimenti, uno già avviato e di prossima firma contrattuale per un importo pari a 8,5 milioni di euro per il quale si attende la validazione del TAR nei prossimi giorni. Circa l'altro investimento, pari a 4 milioni di euro, ha dichiarato D'Alfonso, siamo in attesa che H completi il progetto, attività prevista per fine marzo. A quel punto potranno partire le attività di gara e di scelta del contraente. Questi due investimenti sul depuratore andranno quindi ad aggiungersi alla realizzazione di un parco depurativo in un sito del comune di Pescara di prossima individuazione, visto che al momento il ventaglio di soluzioni vede 4 siti potenzialmente candidati. ARAP, in veste di soggetto capofila per la realizzazione del parco, procederà alla definizione progettuale entro il 30 marzo per poi attivare le procedure di gara entro il 20 aprile e scegliere il contraente entro metà luglio. Si tratta di investimenti complessivi per circa 20 milioni di euro, ha concluso D'Alfonso, che daranno certezza di autosufficienza depurativa per qualsiasi ulteriore esigenza si dovesse porre a carico della capacità di Pescara di reggere il ciclo idrico integrato. La riunione, peraltro, si è svolta poche ore dopo che il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato la delibera relativa al parco depurativo con i voti della maggioranza, contrari i 5 stelle, astenuti i consiglieri del centro-destra. Era un provvedimento atteso, ha dichiarato il sindaco Marco Alessandrini, anche in ragione del fatto che la regione Abruzzo investe cospicue risorse finanziarie proprio nella filiera della depurazione delle acque. Parliamo ora del maltempo che sta colpendo con piogge intense, soprattutto la costa. E' proprio a causa delle piogge violente delle ultime ore il Comune di Montesilvano ha attivato il COC, il centro operativo comunale per la gestione dell'emergenza meteo che sta interessando la città rivierasca. Chiusi al traffico i sottopassi di Via De Gasperi e Viale Europa si raccomanda la massima prudenza. I cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione, specie lungo le traverse intersecanti il lungomare che risultano parzialmente allagate. A lavoro gli uomini della protezione civile, sono state anche richieste delle idrovore alla protezione civile regionale, attivi i numeri telefonici 085 44 81 216 e 085 44 81 326 del centro operativo comunale. Cambiamo pagina, spostiamoci all'Aquila perché fa discutere la situazione delle 70 famiglie che non possono tornare a casa su Via 20 Settembre a causa della pericolosità dello stabile della casa dello studente. 8 anni e nulla è cambiato ancora, non si procede né alla messa in sicurezza né alla demolizione. Le macerie della casa dello studente a 8 anni dal terremoto ostacolano la rinascita. Succede a ben 70 famiglie che non possono rientrare nelle loro case per il pericolo rappresentato proprio dalla casa dello studente in Via 20 Settembre, casa dello studente nella quale il 6 aprile del 2009 morirono 8 ragazzi. 8 ragazzi e 8 anni da quella notte. L'edificio risulta ancora pericolante, ma è messo in sicurezza. A 8 anni dal terremoto molte famiglie, anche nelle immediate vicinanze del centro storico, sono tornate a casa. Molte sono in procinto di farlo, ma questa sorte non toccherà alle 70 famiglie che prima del terremoto vivevano in Via 20 Settembre a Cevico 52. La casa dello studente, infatti, per loro resta un pericolo. Pericolo aggravato dagli altri danni che sono stati inflitti allo stabile, già pericolante dopo le scosse di gennaio e così via. Già a dicembre il Consiglio di partecipazione territoriale dell'Aquila Centro con Luca Rocci fu protagonista di una sollecitazione attraverso una nota per spingere alla messa in sicurezza del palazzo e consentire così il rientro di circa 70 famiglie. Con ordinanza del 31 gennaio, invece, è stato deciso l'abbattimento del palazzo stesso, ma da quella data d'oggi è trascorso un mese e tutto è ancora così, denunciano le famiglie coinvolte. Si tratta di persone alle quali, tra l'altro, il Comune dell'Aquila ha rinnovato anche le forme di assistenza fino all'avvenuta demolizione e rimozione delle macerie della casa dello studente. Un costo questo per la collettività, dove al solito, qui, fa la padrone la burocrazia. Noi torniamo a Pescara per parlare di edilizia scolastica, perché sui lavori in corso alla Scuola Media Pascoli di Via Roma in pieno centro città, botta e risposta fra il Consigliere Comunale dell'Opposizione di Forza Italia Fabrizio Rapposelli e l'assessore Giacomo Cuzzi. Si parla delle problematiche della Scuola Pascoli con i ragazzi che si trovano un po' in diverse scuole della città proprio perché nell'Istituto di Via Roma c'è un cantiere che ormai dura da tanto tempo. Sì, oramai stiamo assistendo alla diaspora dei ragazzi e dei bambini della Pascoli. Le prime sono dislocate a Via Milano, le seconde sono dislocate presso la Michetti a Via del Circuito, le terze addirittura a Via Regina Margherita presso la Mazzini. Questo è un cantiere che è iniziato a fine giugno, avrebbe dovuto concludersi così come il sindaco diceva e l'ex assessore di Jacopo prima di Natale in modo da poter consentire il reingresso dei bambini, dei ragazzi il 7 gennaio con la riapertura dell'anno scolastico. Purtroppo invece oggi assistiamo a questo cantiere infinito, una sorta di tela di Penelope, quindi noi chiediamo al sindaco chiarezza perché è questo quello che vogliono i genitori, se i ragazzi dovranno rientrare con il nuovo anno scolastico che lo dicessero in modo tale che le famiglie si organizzano come si organizzano anche i docenti. Abbiamo investito 400 mila euro sulla scuola Pascoli di Via Roma portando a compimento in breve termine un lavoro di riqualificazione dello stabile, di adeguamento sismico, di efficientamento energetico. Non solo siamo andati al di là delle risorse destinate dal Ministero, abbiamo trovato attraverso risorse di bilancio la risoluzione ai problemi ad esempio della palestra. Oggi siamo a compimento di questo percorso che purtroppo è stato rallentato anche dal maltempo che ha investito la nostra regione, la nostra città in maniera importante nel mese di gennaio e nella prima settimana di febbraio dove è stato impossibile effettuare i lavori. Abbiamo trovato risorse, 800 mila euro per la riqualificazione della scuola di San Silvestro, troveremo e abbiamo già individuato le risorse e verranno presto messe a bando anche questo intervento entro l'estate, le risorse per due asili di infanzia a Porta Nuova e quindi questa amministrazione sta correndo rispetto alle problematiche degli edifici scolastici, lavoro che negli anni passati quando Rapposelli era forza di governo non ha mai effettuato con le amministrazioni precedenti e che oggi stiamo facendo e risolvendo. Parliamo ancora di scuola, lezione magistrale del filosofo Umberto Galimberti a Teramo, agli studenti delle ultime classi dei licei classico e scientifico delle scuole Delfico e Einstein. Galimberti ha parlato del nichilismo che affligge i giovani di oggi a causa dell'incertezza del lavoro e di un futuro dignitoso. Tania Bonnici Castelli. Il nichilismo che affligge i giovani di oggi è un ospite inquietante, nega ogni valore aspettativa di vita e speranza. Un'analisi spietata sulla condizione umana senza via d'uscita quella che ha fatto Umberto Galimberti a Teramo in una sua Lectio Magistralis agli studenti delle ultime classi dei liceo classico e scientifico Delfico e Einstein. Professore associato di filosofia della storia, giornalista e antropologo, Galimberti è stato invitato in città dall'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Ipsis. Professore, ma è vero che i giovani sono quasi tutti nichilisti? No, non credo che siano tutti nichilisti, però nichilismo è l'atmosfera del tempo, non c'è dubbio. Nichilismo non è una parola qualsiasi, è una parola ben definita, l'ha introdotta Nice con tre parole. Manca lo scopo, manca la risposta al perché, tutti i valori si svalutano. Poi ha aggiunto, mi capirete, tra 50 anni, noi ce li abbiamo messi 150, però siamo arrivati alla conclusione tragica. Manca lo scopo, cosa vuol dire? Che il futuro per l'ora è imprevedibile, non è più una promessa e quando il futuro non è più una promessa non retroagisce come motivazione. Perché devo studiare, perché devo lavorare, perché devo impegnarmi se alla fine davanti a me non c'è niente. Come se ne esce? Non dobbiamo pensare che da tutte le situazioni si esce, perché questa speranza consiste semplicemente in un panicello caldo per la nostra mente. Ci sono dei processi irreversibili. Abbiamo creato un mondo nichilista, questo mondo nichilista andrà al tramonto, come è caduto l'impero romano così cadrà l'Occidente. E se Gallimberti afferma che tra i giovani non c'è più speranza a causa dell'incertezza del lavoro e di un futuro dignitoso, alcuni di loro però quella speranza non l'hanno ancora persa. Tu ti senti far parte di una generazione senza speranza? Sinceramente no. Tu che cosa speri per te stesso? Io spero appunto attraverso questi incontri in materia culturale, dove si discute di noi, di noi stessi, della società, di risvegliarci da questo sonnambulismo. Io per me stesso e per la generazione dei miei compagni spero che ci sia un risveglio da questo sonno anestetizzante brillantemente descritto dal relatore. In contrapposizione a ciò non sono pienamente d'accordo con questo nichilismo imperante descritto dal professor Gallimberti, in quanto penso che comunque la nostra generazione viva ancora con questa volontà di ripresa. E ora apriamo la pagina relativa alla festa della donna perché organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Pescara si è tenuto questa mattina un convegno nell'ambito della giornata internazionale della donna. Fra i relatori la sociologa e docente universitaria Eide Spedicato e lo storico Enzo Fimiani. Noi viviamo ancora una situazione di retorica delle pari opportunità. I motivi sono evidentissimi. Nel mondo del lavoro, per esempio, le donne in genere occupano delle posizioni subalterne, guadagnano pure di meno, mi risulta, e soprattutto se vogliono a dire il successo devono adottare preferenzialmente il costume maschile e non pensare, per esempio, la realtà lavorativa secondo quella che è la cultura femminile che invece dovrebbe avere grande spazio nella nostra contemporaneità. Però negli ultimi anni è indubbio che la condizione della donna sia cambiata in meglio. Sì, ma sicuramente è cambiata in meglio a fronte del passato. Però la cultura è difficile da modificare, il costume è difficile da modificare e permangono ancora tanti pregiudizi, tanti stereotipi che definiscono, che consentono meglio alla donna delle forme sì di emancipazione, ma di emancipazione sotto tutela. Ci sono ancora troppe poche donne al vertice delle istituzioni? È un dato di fatto incontrovertibile. E quindi già da questo, diciamo, donne che rappresentano tra l'altro la maggioranza della popolazione mondiale, che per esempio nel caso italiano si laureano prima e meglio molto spesso dei ragazzi e poi invece trovano molto più tardi o non lo trovano affatto lavoro, per esempio. E quindi da tutti questi dati di fatto si capisce come davvero ci sia uno squilibrio nelle società, che forse è uno, naturalmente non l'unico, ma è uno dei motivi che possono determinare, come dire, le difficoltà e la crisi del mondo attuale. Ed è stato inaugurato all'alberghiero De Cecco di Pescara un punto di ascolto della NANCHE, centro antiviolenza, che prevede per ogni primo martedì del mese incontri di prevenzione formativi per studenti, professori e genitori. È importante affrontare il tema della violenza, soprattutto della violenza di genere, oggi che questo fenomeno non è più semplicemente un fenomeno emergenziale o occasionale, ma sta diventando un dato, potremmo dire, strutturale della nostra società. E la scuola, per definizione, è il luogo dove si possono creare dei reali cambiamenti culturali, dove è possibile, quindi, affrontare criticamente queste tematiche. E noi vogliamo, in questo modo, creare un'occasione, un luogo in cui dare supporto, attraverso questo sportello, questo punto di ascolto, dare supporto alle studentesse, agli studenti, alle loro famiglie, quando si sentano in qualche modo minacciati da situazioni, da relazioni conflittuali improntate alla prevaricazione e alla violenza. Ma vogliamo anche creare un luogo in cui interagire con una importante associazione del territorio, qual è l'associazione, il centro violenza, anche, per poter effettuare una serie di interventi formativi durante tutto l'anno scolastico, e questo e gli anni a venire, che siano aperti non soltanto alla nostra popolazione studentesca, ma alla città. È un punto di intersezione tra una dimensione laboratoriale con i ragazzi, di formazione, il personale docente, e poi anche la possibilità di avere un punto di ascolto di alcune situazioni conflittuali connotate, magari anche da violenza. Quindi questo punto anche attivo, il primo martedì di ogni mese, dalle 10 alle 12, permetterà alla scuola di attivare un percorso a 360 gradi sui temi della discriminazione di genere, della lotta degli stereotipi, con la lungimiranza di mettere in piedi una collaborazione continuativa che permette poi alla scuola di spendere un pacchetto di conoscenze nel corso della vita scolastica. E andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo ora dell'iniziativa benefica a Ponzano di Civitella del Tronto per festeggiare l'8 marzo, la giornata della donna, una serata di musica e spettacolo per raccogliere fondi a favore delle popolazioni civitellesi colpite dalla drammatica frana. Ad organizzare l'evento l'associazione Nina Onlus in collaborazione con il BIM, il Comune di Civitella del Tronto ed il Museo NACT. La solidarietà che non frana, nel Terramano l'8 marzo, la festa della donna, si festeggerà a Ponzano di Civitella, ristorante Ermocolle, dove si svolgerà una serata di beneficenza con raccolta fondi per le popolazioni civitellesi colpite dal dissesto idrogeologico più spaventoso degli ultimi cento anni. Civitella comunque nel contesto, cioè Ponzano, ma comunque tutta Civitella, Civitella Capoluogo e il suo territorio, continua ad essere quello che era prima, quando dico con tutte le difficoltà naturalmente che abbiamo, però a livello storico, culturale, di bellezza architettonica, Civitella è quella che era prima. L'iniziativa benefica è stata organizzata dall'associazione culturale Nina Onlus in collaborazione con il BIM, con il patrocinio del Comune di Civitella del Tronto e del Museo NACT. Il programma consta di una cena spettacolo, durante questa cena ci sarà Stellina accompagnato dagli intoccabili, io sono uno degli intoccabili, faremo quindi uno spettacolo che va dalla musica al cabaret e poi ci sarà anche una sorpresa che sarà uno spogliarello, essendo una festa della donna, però sarà uno spogliarello speciale, poi i dettagli li sveleremo proprio all'ultimo momento perché abbiamo delle sorprese particolarmente interessanti. Quello che conta è che ci siate tutti, che ci veniate a trovare, soprattutto che contribuiate a questa causa che è una causa importante. Le frane sono peggio del terremoto e quindi come abbiamo avuto la possibilità, insomma come questo grande artista locale nostro che sentito sul territorio ci ha detto che voleva gentilmente aiutarci, subito abbiamo creato un insieme di, una fusion tra la nostra, che è un'associazione che si occupa solo e scusamente del territorio, perché sapete il museo nasce per raccontare il nostro territorio, e quelle che sono oggi le problematiche esistenti. E nel prossimo servizio andiamo ad ascoltare l'assessore regionale Silvio Paolucci che parla dei nuovi fondi per lo sport abruzzese. Assessore Paolucci si parla di sport, oggi in conferenza stampa presentate la modifica a questo articolo 20, più risorse per lo sport abruzzese? Sì, intanto più risorse perché dall'inizio della nostra legislatura nella legge 20 vi erano 0 euro, adesso ci sono oltre 500 mila euro, ma poi proponiamo un cambiamento perché dopo 17 anni facciamo un vero e proprio tagliando al testo unico del mondo dello sport, ne scriviamo un altro che gran parte raccoglie ovviamente l'eredità, anche importante, di quella norma, ma ne introduce alcuni significativi cambiamenti in modo da bersagliare meglio gli obiettivi e le sfide che abbiamo di fronte, in particolar modo riconosciamo il ruolo del CIP e quindi nel mondo sportivo paralimpico ovviamente diamo grande rilevanza al ruolo del CONI, ma inseriamo, e questa è una grande novità, il ruolo dell'ufficio scolastico regionale dei quattro provinciali perché desideriamo, come abbiamo fatto peraltro con i fondi della prevenzione della sanità, investire molto sull'attività motoria dentro le scuole, che è il grande obiettivo che abbiamo di fronte. A proposito di fondi per lo sport abruzzese, in giunta avete deliberato un contributo di 80 mila euro, per il comune di Pretoro in vista del Giro d'Italia? Beh sì, è un grande evento quello del Giro d'Italia che raggiunge la sua centesima edizione con una tappa straordinaria che si tiene in Abruzzo, in particolar modo che lega e cerca di promuovere ovviamente l'immagine del nostro territorio, la costa e la montagna, la costa dei Trabocchi e la maielletta Blockhouse, un grande appuntamento per la nostra regione. E questo servizio ci introduce alla pagina sportiva che apriamo con il calcio, parlando del Pescara che riprende gli allenamenti in vista della gara di domenica prossima con l'Udinese di Gigi Del Neri, reduce dal pareggio casalingo con la Juventus. Per la prima volta Zeman dovrà per forza di cose cambiare formazione per via della sicura assenza di coda squalificato. Intanto crescono i rimpianti per una quota salvezza mai così bassa. Andrea Costantini Le trasferte senza punti di Verone e Genova hanno spento le ultime velleità di rincorsa salvezza del Pescara che si erano riaccese dopo la goleade inflitta al Genoa. Il pensiero dei più ottimisti era se l'Empoli non dovesse fare punti nelle successive due partite e il Pescara riuscisse a sfruttare l'effetto Zeman nelle due gare lontane dall'adriatico Cornacchia la rincorsa, già ai limiti del proibitivo, sarebbe diventata possibile. La prima ipotesi si è verificata, Toscani al tappeto con Juventus e Genoa, non nella seconda. Questo campionato lascerà tanti rimpianti perché mai la quota salvezza si era abbassata così tanto. Insomma, una opportunità gettata al vento per restare nella massima serie. In questi mesi tanto si è parlato della consistenza della Rosa, di mercato sbagliato, di sopravvalutazione dell'organico da parte della società e dell'ex tecnico Oddo, ma nelle ultime partite l'attenzione si è spostata sulla tenuta atletica della squadra, cosa emersa in maniera lampante a Marassi. Il Delfino ha tenuto bene il campo e controbattuto le offensive blucerchiate nel primo tempo, nella ripresa dopo la girata di Cerri al primo minuto il nulla. Lo stesso Zeman ha subito detto di aver trovato una squadra non a posto fisicamente, il tecnico Boemo sta intervenendo in tal senso, ma al di là della sensazione suscitata dal vedere la squadra sui gradoni, il lavoro è relativamente leggero perché in questo periodo dell'anno incidere sulla preparazione è impossibile e il carburante già nelle gambe in questo momento dovrà servire per arrivare a maggio. Difficile fare integrazioni. Qualcosa evidentemente si è sbagliato quest'estate in fase di preparazione estiva. C'è una Serie A da onorare. Zeman finora ha schierato sempre la stessa formazione, ma domenica dovrà cambiare. Coda è squalificato e Fornasier è il primo candidato alla sostituzione. Crescenzi e Brugman sono altri giocatori candidabili per una maglia, al posto di Biraghi il primo, di uno tra Bruno e Verre il secondo, visto che i due centrocampisti sono apparsi in calo. Per l'attacco ci sarebbe Castanos, ma il Boemo difficilmente rinuncerà a Cerri, Benali e Caprari, visto che la stagione di Gilardino è al capolinea e i costanti problemi di Mitrizza, Pepe e Baibach. Da capire quale sarà la sorte dell'argentino Kubas, che al momento sembra essere finito in fondo alle gerarchie del Boemo, ma anche di Fiorillo. Se l'allenatore non dovesse dargli spazio nelle ultime partite, difficile pensare che punti su di lui in Serie B. Dalla Serie A scendiamo in Lega Pro, perché dopo il K.O. Casalingo con il Venezia, la vittoria del Fano, la classifica del Teramo, torna a far paura con la squadra di Ugolotti ad un solo punto. Dall'ultima piazza a Bergamo domenica prossima con l'Albino Leffe. Sarà vietato sbagliare. La vittoria sul Pordenone aveva riportato un briciolo di serenità in Casa Teramo, perché aveva dato ossigeno alla classifica e un po' di fiducia a squadra e ambiente in vista degli impegni contro due corazzate come Padova e Venezia. Ora però la classifica torna a fare paura. Il Diavole è rimasto a secco nelle partite con le due Venete e la vittoria del Fano ad Ancona di domenica sera riporta l'ultimo posto ad un tiro di schioppo. Non è passato inosservato poi il contenuto della conferenza stampa post-gara del tecnico Ugolotti, che per la prima volta da quando ha preso le redini della squadra ha alzato i toni, dicendo che è inaccettabile prendere gol così presto in quel modo, riferimento al gol di Domizi, così come non è possibile prendere gol come il secondo, concedendo un triangolo in piena area, a difesa schierata. Disattenzioni gravissime per una squadra che deve salvarsi, tanto che lo stesso Ugolotti ha parlato di qualcuno che non c'è con la testa ed ha anche detto che quel qualcuno non ha interpretato quello che è lo spirito che deve accompagnare una squadra che deve salvarsi e guarderà la partita da fuori. Insomma, per la gara di domenica a Bergamo contro l'Albino Leffe si preannunciano novità importanti di formazione. Una obbligatoria, vista la squalifica di Caidi in difesa. Per il centrocampo, domenica ha debuttato nel corso del secondo tempo Spighi, al di là di un errore, il giocatore arrivato dalla spalla e limitato da un problema fisico nelle settimane precedenti ha dato una scossa positiva alla squadra, tanto che lo stesso Ugolotti ha dichiarato di essere rimasto soddisfatto dello spirito battagliero visto nel secondo tempo, a briglie sciolte. E allora proprio Spighi potrebbe essere un'arma in più del Teramo in questo finale di stagione. Lo stesso allenatore settimane fa aveva precisato che le caratteristiche di Spighi sono uniche nel reparto mediano del Teramo e sarà dunque utilissimo. Per la gara contro l'Albino Leffe è stato intanto designato Fabio Schirru di Nichelino. Quella dello stadio Atleti Azzurri d'Italia sarà una gara fondamentale che potrebbe rilanciare le speranze del Teramo o far sprofondare il diavolo nel baratro dell'ultimo posto. E lasciamo il calcio per parlare di rugby e dell'Aquila. Rugby dei coach Rotiglio e Troiani che vince in casa contro la Prorecco e rimane saldamente al secondo posto in classifica. Vediamo il servizio di Niuscia Rioci. La quarta giornata del pool promozione vede ancora una volta l'Aquila Rugby Club vittoriosa a giudicarsi 4 punti in classifica nella partita in casa contro la Ligure Prorecco, chiusa 16 a 8. Un match combattuto in una giornata uggiosa che non ha sicuramente facilitato il gioco ma che non ha frenato l'entusiasmo e la determinazione neroverde. Il primo tempo si chiude in vantaggio per i Liguri che concretizzano 8 punti con calcio di punizione dalla piazzola di Agnel e meta del numero 8, Kevin Cacciagrano, al termine di un'azione di Rolling Mall. La ripresa si apre in condizioni meteo migliorate e l'Aquila Rugby decisa riprendersi il vantaggio con meta di Marcello Angelini a conclusione di un'azione ben articolata, un cambio d'angolo veloce e tre quarti schierati in superiorità numerica. Gli spettatori del fattori sono in tripudio. Il match prosegue brioso e senza esclusione di colpi. L'Aquila Rugby terminerà la partita con un uomo in meno a 10 minuti dalla fine. Gli squali Liguri non concretizzano alcun punto e scivolano al terzo posto in classifica mentre l'Aquila Rugby Club mantiene saldamente la seconda posizione a seguito dei medicei. Man of the match Camullino entri nel team neroverde artefice di diverse azioni di gioco briose e interessanti. Ed è tutto per la terza edizione del TG6. Grazie per averci seguito dalla nostra redazione. L'augurio di una serena notte.